La guerra per alcuni esercenti continua anche dopo venerdì scorso, quando alcuni baristi e ristoratori avevano aderito all'iniziativa Io Apro, con l'intento di far sentire la loro voce contro DPCM e chiusure. Ad oggi alcuni di loro hanno deciso di continuare a lavorare, nonostante le multe e la possibilità di vedersi sospendere l'attività. Fa parlare ancora in queste ore il caso della titolare del Globus Aristopab a Santa Lucia di Piave, Rosanna Dal Borgo, che ha preso la decisione di continuare l'attività nel suo locale, nonostante i divieti. A insorgere contro questa decisione è la categoria che fino adesso ha rispettato le regole. Non è solo questione di buttare dell'acqua sul fuoco per Andrea Penzo Aiello, presidente dell'Associazione Veneto Imprese Unite, ma un invito esplicito a mantenere la calma e restare uniti. Noi come associazione abbiamo sempre preso le distanze da questa decisione, nonostante negli ultimi mesi abbiamo messo in atto diverse proteste, manifestazioni, sit-in, flash mob, però dobbiamo sempre farlo cercando di restare dalla parte della ragione. Nel momento in cui manchiamo di rispetto a delle regole, facciamo poi fatica sui tavoli istituzionali in cui ci sediamo a andare a chiedere del rispetto per la nostra categoria. Baristi e ristoratori hanno in larga parte deciso di rispettare le regole imposte da DPCM e ordinanze regionali, ribadisce Aiello preoccupato. Noi abbiamo paura che questi comportamenti vadano a creare comunque un danno di immagine alla nostra categoria. Capisco le loro motivazioni perché sono le stesse motivazioni che abbiamo tutti noi. Io stesso ho un'attività e vengo qua tutti i giorni a fare l'asporto per raccomulare qualche briciola che magari mi permetta di vivere. Però bisogna stare uniti, fare squadra, ma farlo nella maniera giusta senza poi cadere in quegli errori che ci porterebbero completamente fuori strada e non ci permetterebbero di ottenere quello di cui abbiamo bisogno.